Per quale motivo il Comune di Pavia ha deciso di partecipare a TTG Travel Experience di Rimini, una delle più importanti fiere turistiche del settore? Ecco, appunto, TTG Travel Experience è una delle più importanti fiere turistiche e quindi raccoglie e accoglie tantissimi operatori del settore. Pavia non è mai stata presente, ma da quest'anno abbiamo voluto fortemente la presenza della nostra città perché abbiamo tanto da offrire e perché dobbiamo farla conoscere il più possibile in Europa e nel mondo. Quindi in collaborazione con la Camera di Commercio saremo presenti dal 12 al 14 di ottobre appunto a questa importantissima fiera del settore, a questa importantissima fiera del turismo, non solo con questa presenza appunto in luogo a Rimini, ma con un progetto di incoming a novembre di operatori turistici di alcuni paesi europei che verranno a Pavia proprio per stabilire contatti e rapporti per sviluppare il futuro del turismo sulla città. Ecco, Presidente, quali sono i numeri del comparto turistico in provincia di Pavia e come possono essere implementati? Allora, il turismo a livello nazionale è il 10% del PIL. Purtroppo Pavia è solo il 3% in questo momento del nostro PIL provinciale per cui abbiamo l'obbligo di migliorare il nostro PIL per portarlo almeno il 5%. E sicuramente la fiera di Rimini, con questa partecipazione insieme al Comune di Pavia, come tante iniziative che sempre ci legano e siamo sempre molto favorevi, sta facendoci portare a questo miglioramento per la conoscenza del nostro territorio pavese.